Tu come la fai, tu come la fai, la faccio dei pepiti e busa, la faccio dei pepiti e busa, secondo te vuol dire guai cosa, cosa, la cacca rosa! Tu come la fai, tu come la fai, la faccio dei pepiti e busa, secondo te vuol dire guai cosa, cosa, la cacca rosa! Schifo fatte a trasmissioni quarantiste, che affrontano argomenti serie in chiave triste, li aggarnano a servizi da parmo riviste, con attricette rifatte per papà per stile maciste, E' tutta gente che parla e cacchese, famosa per un giorno sconosciuta dopo un mese, reality show, la stregua del fanatismo, tu come la fai, tu come la fai, la faccio dei pepiti e busa, 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 la cacca rosa! Schifo fatte a trasmissioni quarantiste, che affrontano argomenti serie in chiave triste, li aggarnano a servizi da parmo riviste, con attricette rifatte per papà per stile maciste, E' tutta gente che parla e cacchese, famosa per un giorno sconosciuta dopo un mese, reality show, la stregua del fanatismo, più che di metero e parlere di meteorismo! E' chi può fare queste trasmissioni quarantiste, che affrontano argomenti serie in chiave triste, li aggarnano a servizi da parmo riviste, con attricette rifatte per papà per stile maciste, E' tutta gente che parla e cacchese, famosa per un giorno sconosciuta dopo un mese, reality show, la stregua del fanatismo, più che di metero e parlere di meteorismo! Tu come la fai? Tu come la fai? La faccio beppe e pittettosa, secondo te vuol dire qualcosa? Cosa? La cacchia rosa! E' tutta gente che parla e cacchese, famosa per un giorno sconosciuta dopo un mese, reality show, la stregua del fanatismo, più che di metero e parlere di meteorismo! E' tutta gente che parla e cacchese, famosa per un giorno sconosciuta dopo un mese, reality show, la stregua del fanatismo, più che di metero e parlere di meteorismo! Tu come la fai? Tu come la fai? La faccio beppe e pittettosa, Secondo te vuol dire qualcosa Cosa, una cacca rosa E schifo a parte trasmissioni quarantiste Che affrontano argomenti in serie in chiave triste Gli aderranno a servizi da farlo riviste Suonattricette riparte per papà fai stile maciste E tutta gente che parla e cacchese Famosa per un giorno sconosciuta dopo un mese Reality show, la stregua del fanatismo Più che di metero, del padre di medioismo E schifo a parte trasmissioni quarantiste Che affrontano argomenti in serie in chiave triste Gli aderranno a servizi da farlo riviste Suonattricette riparte per papà fai stile maciste E tutta gente che parla e cacchese Famosa per un giorno sconosciuta dopo un mese Reality show, la stregua del fanatismo Più che di metero, del padre di medioismo Tu come la fai, tu come la fai La faccio bebe, bebedosa Secondo te vuol dire qualcosa Cosa, una cacca rosa